a carozi tutte cose a fuoco stiamo facendo ma no, non mi piace fare lì a Savo non lo so se si vede guardi il cielo qua su prima macchina sai che mi sta ruvando di tutto e di più lì da lì che c'è cabanna rifumo qua magari infatti dice il tuo collega dice ci chiamo a lei ha detto che mi sta ruvando di tutto a lei ha detto che mi sta ruvando di tutto la sua vita è la sua dove sono? dove sono? dove sono? qua le fanno qua le fanno che c'è stato lì è nuovo dove si fanno il suo fogo a passare? E' inizia la vita, non può passare. 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 Non può passare.